Il corso di studio in ingegneria meccanica riguarda ovviamente l'ingegneria meccanica che è una delle più antiche discipline nell'ambito dell'ingegneria, ma nonostante questo è ancora alla base dell'innovazione tecnologica. Proprio per questo motivo il risultato in termini di richiesta del mondo del lavoro di neo ingegneri meccanici è assolutamente interessante, tant'è vero che i nostri numeri in termini di accompagnamento nel mondo del lavoro sono il nostro fiore all'occhiello, cioè la percentuale di studenti laureati che a un anno dal titolo lavorano o studiano nei corsi di laurea magistrale è estremamente elevata. L'ingegneria meccanica studia i processi di fabbricazione, il disegno, la progettazione, l'analisi del comportamento di componenti meccanici, di macchine e di impianti, quindi una prospettiva molto ampia che chiaramente richiede una preparazione impegnativa, ma che dà la possibilità di accesso nel mondo del lavoro a mondi molto eterogenei e molto diversi tra loro. Il corso di studio di ingegneria meccanica Forlì ha un numero programmato di 120 studenti, questo significa che il rapporto tra docente e studente è molto diretto e così come diretto è il rapporto tra gli studenti e il personale di supporto alla didattica. La struttura didattica è nuova, le ultime aule verranno consegnate il prossimo anno e gli studenti di ingegneria Forlì nei due terzi dei casi acquisiscono crediti formativi attraverso il tirocinio a conferma del fatto che c'è un rapporto molto stretto con la realtà produttiva della zona. Questo peraltro è confermato anche dall'eccellente prestazione in termini di inserimento nel mondo del lavoro. Inoltre Forlì come città è una città molto attenta alla formazione universitaria, la popolazione universitaria è in crescita, siamo arrivati a 6.500 studenti quest'anno e i servizi a disposizione degli studenti sono servizi di assoluta eccellenza, mi riferisco alle biblioteche, alle sale studio, agli spazi a disposizione eventualmente anche per attività extrascolastica. Infine Forlì è una città caratterizzata da un costo della vita non particolarmente elevato, cosa che non guasta, una città che ha una caratterizzazione in termini di formazione universitaria decisamente internazionale.